Calcio d'inizio nel girone A, quinta giornata, New Team Linate che vuole dare continuità alle due vittorie consecutive, Bocconi Alumni che invece vuole schiodarsi dall'ultimo posto in classifica. Si chiude lo scambio, al limite dell'area di rigore, Mayra prova lo stesso andare in porta, Gross interviene male, la palla finisce in rete e Linate passa in vantaggio con il gol di Ivan Mayra. Si impegna il numero 11 per tenerla in campo, deve rientrare il grande numero di Santini in area di rigore, l'appoggio per Gianni che prepara il destro, raddoppio dell'Inate, grandissima azione da parte di Brian Santini che si prende tre quarti del gol, giocata incredibile sulla linea di fondo, poi si costruisce il destro Gianni. Conte passi Fusco che disegna la parabola con il destro, stampa sulla traversa, Minadeo era comunque sulla linea del pallone, poi fischiato il fuorigioco, Nori non è finita però perché Linate si presenta in area di rigore, la palla dentro a cercare Gianni che non va di prima. Controlla, se la giusta sul destro, contropiede letale dei biancoverdi che siglano il gol del 3-0 con la doppietta da parte di Gianni. Si sistema il pallone Mayra che va col destro, spiazzato Grossi, 4-0 dell'Inate, doppietta personale e dedica del numero 18. Puntuale Mayra, cross col destro, profondo, ci sono due maglie biancoverdi sul secondo palo ma c'è anche il grande palleggio al limite dell'area di rigore di Gianni che si costruisce questo super gol e sigla il 5-0. Barriera a 5 per Minadeo, parte Fusco, sopra la barriera, grande traiettoria, va vicino all'incrocio dei pali numero 10. In bucata, posizione regolare per Santini, a tu per tu col portiere con lo scavino. Super gol di Brian Santini. Gianni va all'uno contro uno, finta il tiro, se la porta sul destro, poi vuole andare da Casaburo, posizione regolare. Servito il cioccolatino ad Antonio Casaburo che non si fa pregare, in area di rigore lo scarta e fa 7-0. La rivuola al limite dell'area al capitano, si chiude l'1-2, altra grande azione, palla messa dentro. Tap in, facile facile di Casaburo. Tutto regolare, in pochi minuti, trova la doppietta. Antonio Casaburo, siamo 8-0 per i new team Linate. Finisce qui, team Linate di Laga sul Bocconi Alumni. Finisce 8-0 per la squadra bianco-verde che c'entra il terzo successo consecutivo. Con Masulli e Gianni del new team Linate, intervista doppia. Ragazzi, vittoria strameritata oggi. Partiamo da te Marco, la squadra si è ritrovata. Terza vittoria di fila, vi state rilanciando in campionato. Speriamo di continuare così, siamo accorto un po' di fiato e di uomini, però abbiamo acquistato il nuovo Varashville dello Sportland. Oggi si è presentato benissimo, un'ottima tripletta e speriamo che alla prossima, subito lunedì, di mettere la quarta vittoria consecutiva e accumulare sempre più punti per andare in vetta. Passiamo al bomber, oggi grandissima prestazione, tutto il tridente d'attacco si è mostro benissimo, ti è scatenato oggi, eri infermabile. Sì, allora i miei compagni di squadra hanno permesso comunque a me di fare questa prestazione. Io sono nuovo, però mi sono trovato subito bene con la squadra, la squadra sta girando bene, infatti nelle ultime tre partite tre vittorie e che dire, speriamo di continuare così. Bravi ragazzi, in bocca al lupo per la prossima allora. Grazie mille. Grazie mille a voi.